Ciao a tutti ragazzi, rieccomi qua! Ciao a tutti ragazzi, rieccoci qua con un nuovo video. Come vi avevo già pronunciato, oggi vi porto le nuovissime transizioni video per Premiere Pro. Saranno veramente tante e super veloci da applicare, basteranno veramente due click. Come la scorsa volta, anche adesso troverete qui sotto in descrizione il link al mio Google Drive dove poter scaricare il file compresso in WeRAR. Come sempre, adesso ci giriamo e vediamo come procedere. Eccoci qua davanti al nostro computer. Per iniziare, cliccate sul link qui sotto in descrizione. Vi si aprirà ovviamente il browser dentro il mio Google Drive dove troverete il file da scaricare. Clicateci sopra e fate scarica. Scarica comunque, poco importa. Ok, il nostro file incomincerà a scaricarsi. Vi ricordo per chi non lo conoscesse di installare anche WinRAR che è il programma per scompattare il file compresso che stiamo scaricando. Una volta scaricato, troveremo questo file. Andiamo a estrarlo e troveremo questa cartella da 1,13 giga. Apriamola e qui dentro troviamo, come vedete, i vari formati video in Adobe Premiere. Adesso vediamo subito cosa dovremmo fare. Apriamo Premiere, importiamo ovviamente il nostro video, il nostro clip, è quello che è. Io in questo caso caricherò queste qua. Mettiamo due pezzettini. Tac. Tac. Queste sono le nostre due piccole scene di esempio. Cosa dobbiamo fare? Molto semplice. Dovremmo andare a vedere in che dimensioni è stato creato il nostro girato. Basterà andare su sequenza, impostazioni, sequenza. Ci si aprirà questa finestra dove su video, dimensioni, fotogramma, vedremo le dimensioni appunto del nostro formato video. In questo caso è stato girato con un drone in 4K come vediamo qua. Ok. Adesso che sappiamo il nostro formato, apriamo la nostra bella cartella. Cerchiamo il formato 4K, 4K Ultra HD, che è quello base. Importiamolo dentro il nostro progetto. Io il metodo più semplice faccio un drag and drop. Cioè lo prendo e lo trascino dentro il nostro spazio di progetto dove abbiamo anche le altre clip archiviate. Lo prendo e lo sposto qua. Appena lo importeremo verrà fuori questa piccola finestrella. Lasciamo tutto com'è, vedete? Lasciamo solo importa intero progetto e diamo ok. Aspettiamo qualche istante di caricamento. A questo punto non dovremmo fare altro che ricollegare i file mancanti. Perché ovviamente importando da un computer all'altro il collegamento di ogni file sarà differente da dove poi andremo a copiare la nostra cartella. Ma è veramente molto semplice. Lasciamo la selezione su Glitz01. Andiamo su Individua, qua. Andiamo a cercare il percorso in cui siamo andati a copiare la nostra cartella scaricata. Nel mio caso su Desktop, Transizioni, Premiere Pro 2019. Basterà, vedete? È molto semplice. Basterà seguire quello che c'è scritto qua in alto. È sempre la prima cartella praticamente. Qua, Audio, 30 Glitz Sound Effect e Glitz 01 che è quello che ci richiedeva. Selezioniamolo e diamoli ok. Adesso lui in automatico andrà a individuarsi tutti gli altri collegamenti in sequenza assolutamente in automatico. Aspettiamo qualche secondo di caricamento. Ok, nel caso in cui vi richiedesse altri file che non trova, può capitare, ogni tanto no, ogni tanto sì. Fate ancora Individua. Selezioniamo la cartella principiale. Andiamo a riselizionare il nostro percorso. Preview Vediamo, ci crede. Shutter E facciamo cerca. Adesso che c'è uscito il file, selezioniamolo e diamoli ok. Ancora qualche secondo di caricamento. Perfetto, adesso lui si è caricato tutti i vari collegamenti, dunque non avete più nessun problema. A questo punto, dentro il vostro progetto, vi troverete con queste cartelle che vedete qua. Dentro tutte queste cartelle ovviamente troviamo tutte le nostre transizioni. Per capire che tipo di transizione è semplicissimo, basterà già leggere dal titolo e avremo il nostro indirizzo su dove cercarle. In questo caso proviamo a prendere Panorama. Qui dentro troviamo altre tre cartelle perché sono suddivisi in semplici, con effetti RGB e con effetti di luce. Prendiamo quelle, che ne so, light per dire. E andando sopra, già con il mouse, vediamo un'anteprima della nostra transizione. Prendiamo ad esempio Panorama Right. La prendiamo, facciamo un drag and drop e la trasciniamo dentro la nostra timeline. Cosa fondamentale da seguire, come vedete nella nostra importazione che abbiamo appena fatto, il taglio che vedete qui deve andare a coincidere ovviamente con il taglio delle vostre due clip. Dunque non mettetele così ad esempio, ma questo qua va perfettamente al centro. Infatti andrà a prenderselo al suolo con la calamita. E adesso non dobbiamo fare altro che fare play. Voilà, tutto super semplice. Nel caso in cui non volessimo questo effetto semplicissimo, basterà selezionarlo, Canz, andiamo a cercare un'altra transizione, Slice, vediamo. Prendiamola, prendiamola, trasciniamola dentro, mettiamola sempre in coincidenza del taglio. Voilà, e come vedete la nostra transizione è applicata. Prendiamone un'altra. Voilà, tutto molto semplice. Vi ricordo, piccolo appunto, nella vostra timeline di andare a disattivare il V1. Nel caso in cui lo abbiate attivato, praticamente trascinando dentro il vostro effetto, lui andrà a copiarsi anche, vedete, l'anteprima che visualizzate qui nella preview, diciamo. Poco importa, potete semplicemente selezionare il file della preview e fare Canz. A quel punto vi andrà comunque ad applicare l'effetto al vostro video. Prendiamo un altro effetto, applichiamolo, vediamo. Voilà. Come avete visto, super facile, super semplice e estremamente veloce. Avrete una caterba di transizioni video assolutamente gratuite e facili da applicare. Ovviamente sta a voi poi scegliere quella più adatta per il vostro video, perché qui in mezzo ce ne sono veramente parecchie. E eccoci qua. Come avete visto, applicare queste transizioni è veramente una stupidata. Non credo che esista niente di più facile in Premiere Pro. Nel caso in cui riscontrate dei problemi o avete delle domande da farmi, scrivetemi qui in basso nei commenti e io vi risponderò quanto prima. Vi ricordo anche di iscrivervi al mio canale, anche perché prossimamente pubblicherò altri contenuti come questo. Mettete un like al video se non l'avete già fatto e vi ricordo di venire a trovarmi nella mia pagina Instagram. Trovate il link qui sotto in descrizione. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie.